Vado. Sindaco, oggi c'è la riunione della cabina di regia su Bagnoli qui in prefettura, che manderà a Biscopo come gli appuntamenti precedenti, però alcune associazioni invitate hanno disertato. Che segnale è? No, noi non partecipiamo oggi pomeriggio alla cabina di regia in prefettura perché non ci sono più le condizioni istituzionali per partecipare alla cabina di regia, come da lettera che ho inviato stamani al sottosegretario dei vincenti e come da comunicato stampa che da qui a qualche minuto sarà diramato. Quindi il comune esce dalla cabina di regia? Non ci sono più le condizioni istituzionali allo Stato per partecipare alla cabina di regia.